Mi piace ricordare proprio la testimonianza diretta della signora che ha accolto me e un'altra mia amica. Nel momento in cui ne ringraziarla, perché appunto ci aveva aperto le porte a delle merite sconosciute, lei ha detto voi non eravate delle sconosciute perché non siete sconosciute agli occhi di Cristo. Quindi appena detto quello, la commozione è proprio salita perché mi sono resa conto che dovunque vado, qualsiasi cosa che faccio, come del resto ha detto anche il Papa, cioè dialogate con Dio, sia che fate cose belle che fate cose brutte perché non siete lontane da Gesù, cioè Cristo vi guarda sempre. È passata una settimana dal loro ritorno a casa. Una settimana in cui i 21 giovani della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro hanno avuto modo di riflettere sull'indelebile esperienza della giornata mondiale della gioventù e assimilarne i significati più profondi. La prima settimana missionaria a San Paolo, accolti come figli dalle famiglie locali, è la seconda a Rio de Janeiro, dove si sono riuniti ai 3 milioni di ragazzi provenienti da tutto il mondo per ascoltare le parole di Papa Francesco, che ai giovani della GMG ha affidato un incarico preciso. Andate senza paura per servire. Lui ci ha chiesto proprio questo, vorrete essere testimoni? Lo volete veramente, mettendo in gioco tutto, facendo anche delle scelte che a volte vi fanno veramente cambiare vita e la fanno cambiare anche alle persone che incontrate. E ci sono stati questi 2 milioni di giovani, perché era la sera della veglia, che hanno insieme detto sì. E questo secondo me è stato poi alla fine la parola più bella, cioè quel dialogo che Papa Francesco è riuscito a veramente estaurare con i giovani. E' un'altra cosa importante, ci ha detto, ma questa cosa ve la dimenticherete domani? Ci voleva far comprendere che la testimonianza non è una cosa da vivere soltanto alla giornata mondiale della gioventù, ma è una cosa che ogni giorno deve essere presente nella nostra vita. E per l'ennesima volta questi 2 milioni di persone, di giovani, hanno detto no, tutte in un'unica voce, per cui non ce lo dimenticheremo.